che generalmente imprime un certo tipo di impegno dentro l'azienda. C'è un po' che lavoro fai e cosa fa soprattutto RIME Group? RIME Group nasce nel 2004 da persone che vengono da altre aziende del settore meccanico. Siamo un'azienda che fa costruzione meccanica di precisione in generale. Da servizio al cliente di un prodotto finito, lavoriamo per vari settori, automotive, motociclo, trattore, tutto quello che viene. Abbiamo aperto l'azienda nel 2004 quindi non nei tempi più felici. Avete affrontato subito il 2007-2008? Sì, abbiamo affrontato il 2007-2008, ne siamo usciti un po' innovando, credendo nella formazione delle persone. Diciamo che tutta questa formazione fatta negli anni prima di conoscere appunto Fondo Artigianato è stata tutta tramite consulenti esterni. Quindi più o meno oggi questo, oggi quello. Adesso c'è una certa continuità in questo e soprattutto, devo dire, da quanto riguarda la professionalità. Noi abbiamo chiesto questo appoggio, questo finanziamento per l'ottenimento della certificazione ambientale, che andremo a giugno a fare di più modi. Perché appunto ce l'hanno richiesto diversi nostri clienti, quindi clienti esteri e che multinazionali per cui lavoriamo.